...a cambiare tutto, a cercare Kuzka, la torre di testa, il controllo di Bertolacci... ...a botta di Bacca, e il Milan dimezza lo svantaggio, con la volée di Carlos Bacca che va a fulminare Neto. Ottavo minuto della ripresa, il Milan ci prova, gol di Carlos Bacca. Juve 2, Milan 1, al primo pallone davvero giocabile, l'attaccante ex Siviglia non ha perduto. Roma lo firma Edin Dzeko, dopo due minuti dall'inizio del secondo tempo, Roma 2 e Sampdoria 0. Grazie. 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 Grazie.